Grazie di cuore, grazie anche a voi che state comodi là al caldo, non vale. Là già stanno disubbidendo il governo perché è vero oggi c'è sul messaggero, nella manovra economica c'è la tassa sull'ombra di balconi e verande, quindi bisogna stare attento, se c'è troppo sole ad agosto qua sono casini, però ragazzi scherzi a parte, la voce l'ho quasi finita, però per me è un'emozione incredibile perché pensate, leggevo adesso e l'hanno scritto perfino sul Corriere della Sera e siete tanti, c'è più gente stamattina a bersi un caffè a Cattolica di quanto non ce ne fosse ieri a Scandiano, il paese di Prodi con Bonacini, quindi vuol dire che è finita, vuol dire che è finita e quindi poi ci saranno cinque anni di lavoro perché dopo settant'anni se qualcuno fa le pulizie di primavera in casa dopo che ha tenuto chiuse le finestre d'inverno, figurati dopo settant'anni cosa trovi in quegli uffici, in quegli assessorati, in quelle direzioni e quindi ci sarà da ripartire perché in tutti si lamentano sia in Emilia che in Emilia dell'assenza dell'assessorato al turismo, dell'assessorato all'agricoltura, dell'assessorato al commercio, una strage di negozi, hanno chiuso in un anno più di 2000 negozi solo in Emilia Romagna, lasciando perdere botteghe, partite IVA, artigiani, è chiaro che se chiudono i piccoli magari fa notizia alla Fiat, fa notizia alle grandi aziende, all'Italia, 500 dipendenti, ma ogni negozio che chiude è una sconfitta ed è meno sicurezza perché le luci dei negozi sono sicurezza, quindi ripartiremo in Emilia Romagna dai piccoli, il PD si è sempre occupato dei grandi, delle grandi aziende, delle grandi cooperative, delle grandi aziende agricole, noi ripartiremo dai dimenticati, dai piccoli, dai commercianti, dagli artigiani, dalle partite IVA, dai piccoli imprenditori, dal popolo dimenticato e ripartiremo dal lavoro, lavoro vuol dire direttiva Bolkenstein, noi la promessa l'abbiamo mantenuta anche se adesso al Ministero stanno tornando indietro, stanno mandando circolari, no sospendiamo, vediamo finché campo difendo il diritto dei romagnoli a gestire le spiagge della Romagna, le spiagge della Romagna sono dei romagnoli, non di qualcuno che arriva dall'altra parte del mondo a fare i saldi o a fare la spesa, lavoro vuol dire che il voto di domenica è un voto anche per mandare a casa un governo che settimana scorsa ha presentato una proposta di legge per aumentare l'età per andare in pensione, cioè l'esatto contrario di quello che abbiamo fatto noi per un anno, noi ci abbiamo messo un anno a smontare la legge Fornero e ad arrivare a quota 100 con l'obiettivo di arrivare a quota 41 perché 41 anni di fabbrica o di ospedale mi sembrano sufficienti per godersi qualche anno di pensione e questi invece vogliono smontare quota 100 e riavvicinarsi alla legge Fornero, il voto di domenica è un voto che ci permetterà di mandare a casa anche Renzi, Conte, Di Maio, Zingaretti e compagnia bella perché altrimenti qua si va in pensione a 70 anni e i ventenni scappano. È questo, quindi noi stiamo, ho fatto i conti Jacopo fra dicembre quando abbiamo cominciato, oggi siamo a 120 piazze perché oggi abbiamo Cattolica, poi vado in Fiera Rimini, poi abbiamo Cervia, poi abbiamo San Pietro, poi abbiamo Galeata e domani invece abbiamo il Ferrarese, poi abbiamo Bologna e giriamo, giriamo, giriamo e abbiamo ascoltato tante persone, sulla sanità ci sarà da fare, i malati d'Alzheimer, la SLA, il diabete, le case di riposo, io ho trovato dei cinquantenni che per sistemare il loro babbo hanno dovuto andare in Molise, hanno dovuto andare in Lombardia, hanno dovuto andare in altre regioni perché qua ci sono liste d'attesa infinite a meno che tu non abbia 4.000 euro al mese, però non penso che tutti abbiano 4.000 euro al mese, poi noi non è che promettiamo miracoli eh, noi non facciamo il bonaccini la qualunque perché io sto leggendo in questi giorni che sta promettendo autobus gratis, case gratis, niente tasse, riapro gli ospedali, faccio le strade e le autostrade, quando ve lo verrà a dire chiedetegli ma voi per 50 anni che cazzo avete fatto? Ma voi dove eravate qua? Eh gli autobus gratis, le scuole gratis, le case gratis, poi prendono i romagnoli e gli emiliani per scemi, però evidentemente scemi non sono ma come il governo che c'era, avete visto i telegiornali, 100 euro al mese a tutti i lavoratori e dice, hanno trovato un pozzo di petrolio, poi vai a leggere tra i 28 e i 35 mila euro, però quelli che prendono gli 80 euro di Renzi gliene danno forse 20, beh come se uno che dichiara 40 mila euro lordi all'anno sia un milionario, quelli no e sotto i 28 nient'altro. Abbiamo anche le campane dalla nostra parte, viva le campane e buona santa domenica a tutti perché voto di domenica sarà anche una scelta di campo, io ieri ero a Maranello e rileggevo un grande emiliano Giovannino Guareschi che diceva che chi non ha la fede in Dio è come un cieco che non vede i colori del mondo, ci rimproverano di avere fede e io sono convinto che ci sia qualcuno più in alto che ci accompagna durante le nostre giornate e penso che non dia fastidio e non debba dar fastidio a nessuno questo, non vedo, poi ognuno chiede al Dio che vuole però c'è qualcuno che le campane le vorrebbe spegnere, c'è qualcuno che ha proposto di fare i tortellini senza carne di maiale voglio dire quindi adesso facciamo la piada senza squacquerone e poi siamo a posto quindi è una scelta e io non vedo l'ora che per cinque anni anche in Emilia Romagna possiamo fare quello che facciamo nelle tante altre regioni dove amministriamo, ci sarà questa settimana Luca Zaia in Romagna il 22 insieme a Lucia Borgonzoni, poi sarà in Emilia, verrà il governatore della Lombardia, il governatore del Friuli Venezia Giulia perché siamo una squadra, ieri c'era la governatrice dell'Umbria quindi vogliamo far parte di una squadra che vince e che non si arrende mai, questa è terra di gente che non si arrende mai, quando Marco Pantani cadeva poi si rialzava e tornava a vincere alla faccia di tutto e di tutti. Io ringrazio perché ci sto mettendo un po' di impegno però in Romagna sto visitando, sto incontrando della gente innanzitutto eccezionale e sto visitando dei luoghi incredibili, non ero mai stato, mi avevano invitato tante volte ma non c'ero mai riuscito, invece grazie a queste elezioni e grazie anche a Bonaccini, lo devo ringraziare, ho avuto l'onore di pranzare con i mille ragazzi che stanno combattendo a San Patrignano per liberarsi dalla droga che è un modello al mondo e la scelta di domenica è una scelta di vita perché chi sceglie la Lega fa una scelta contro la droga sempre e comunque, di là c'è qualcuno che vorrebbe legalizzare, spacciare, vendere droga nei negozi, vendere droga nei negozi è questo e poi la droga fa male, la droga fa male, è meglio un bicchiere di San Giovese, il bello è che ovunque noi andiamo da Imola a Parma, a Piacenza c'erano 3.000 persone, a Modena ci sono sempre piazze strapiene dove si portano idee proposte, le liste d'attesa negli ospedali, le case popolari, 5.000 case popolari vuote in Romagna e in Emilia perché la regione non le ha rimesse a posto, noi non facciamo promesse a Vanvera, ci metteremo il tempo che ci metteremo ma quelle 5.000 case le sistemiamo però prima le diamo agli italiani e poi quel che avanza al resto del mondo, prima i romagnoli, poi se avanza qualcosa al resto del mondo, questo è. Poi parliamo dell'aeroporto di Forlì, dell'ampiamento del porto di Rimini, abbiamo incontrato gli operatori portuali, noi saremo venerdì a Ravenna perché nella manovra economica c'è anche la tassa sui porti, quindi pensate a Ravenna, la tassa sui porti, la tassa sulla plastica, la tassa sullo zucchero, il blocco della ricerca di gas in mare, quindi ci sono migliaia di posti di lavoro a rischio, una volta la sinistra era dalla parte dei lavoratori, adesso la sinistra è contro i lavoratori e trova al massimo tre poveretti che cantano bella ciao con Rolex al polso, il massimo che riescono a fare è questo, c'è il povero Berlinguer che si rivolta nella tomba se vedesse chi se oggi incontrasse per strada Renzi o Zingaretti gli verrebbero i brividi perché la cosa bella che io trovo una marea di gente e oggi c'è scritto perfino sul Corriere della Sera, c'è un articolo stranamente interessante il Corriere della Sera che segue Bonacini nel suo tour fra Modena e Reggio e dice che non c'è sostanzialmente nessuno perché tutto il popolo che una volta votava a sinistra, votava comunista, votava di là per difendere il lavoro, per difendere gli ultimi precari, gli operai, i contadini, i lavoratori con i cali sulle mani, adesso questa gente vota Lega perché ormai il PD è il partito dei banchieri e dei milionari, altro che operai, artigiani, balneari, precari, buonanotte e sapete qual è il bello? Che in tutte queste piazze come ieri a Maranello centinaia, migliaia di persone sorridenti per bene, mamme, papà, nonni, bambini e sempre ogni tanto ci sono dieci o quindici lontani che sventolano, che cantano ma poi va bene, ma perché il canto allunga la vita e che ogni volta hanno un programma politico molto sviluppato, articolato e interessante che anche ieri riassumevano un concetto, vaffanculo e io dico ma e sapete perché noi vinciamo, anzi voi vincete? Perché è anche una questione di educazione, perché io sono sicuro che se qua ci fosse qualcuno di sinistra a portare le sue idee nessuno di voi si sognerebbe di essere là a dire vaffanculo, sareste da un'altra parte, sareste in chiesa, sareste a casa, sareste a far volontariato, sareste in famiglia, è una questione di educazione e le persone per bene vincono alla fine, quindi lasciate e poi dal vaffanculo poi c'è un salire nella qualità della proposta, si passa a scemo scemo, buffone, razzista e fascista perché ovviamente quello un po' di razzismo e un po' di fascismo non si negano mai a nessuno, cercano, mi fanno impazzire perché stanno facendo una campagna elettorale, Renzi, Zingaretti, Bonaccini, in cui leggevo che anche nelle piazze hanno fatto l'appello alla resistenza, ai partigiani perché se no tornano i fascisti e uno li cerca, cerca non so i fascisti là sul tetto, guarda che c'è un fascista là sul tetto, oppure staccoli lì in bagno ho visto entrare un fascista, oppure qua sotto e non hanno capito che non ci sono migliaia o milioni di fascisti, ma ci sono in Romagna tantissimi italiani orgogliosi di essere italiani, è molto più semplice e lo dimostreremo col voto domenica, non la faccio lunga, vi chiedo in questa settimana di parlare, 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 siamo avanti per la prima volta in 70 anni, però c'è ancora tanta gente indecisa e la trovate domani al bar, in azienda, in fabbrica, a scuola, in negozio, in edicola, mi date una mano svegliando un po' di test e un po' di cuori che sono ancora lì nel dubbio, alzi la mano chi in questa settimana pensa di svegliare qualche romagnolo che dorme e spiegargli che il 26 gennaio si fa la storia di questo paese, si cambia la storia di questo paese, non sono elezioni, è un referendum, è un referendum, come fra Repubblica, si vede che si allena a fare l'arbitro, fischia, fischia il vento in furia la bufera, poi io ci metto del mio perché oggi è domenica, domani il Senato, la Giunta per le immunità del Senato, decide se devo andare a processo perché sono un criminale o se ho agito da ministro bloccando gli sbarchi perché era mio dovere farlo e io ci ho ragionato ieri, ci ho ragionato su stanotte e sono arrivato a una decisione perché ormai è una barzelletta che avanti da mesi, anzi dall'anno scorso, vi ricordate che ci hanno già provato l'anno scorso su un altro sbarco e vai a processo, sei un sequestratore di persone, sei un violento, sei un razzista, sei un delinquente, è il PD, è i Cinque Stelle, è Renzi, è Conte e Di Maio che c'erano ma non si accorgevano di cosa succedeva, loro erano lì e io allora chiederò domani a chi deve votare e quindi anche ai senatori della Lega di farmi un favore, votate per mandarmi a processo e la chiariamo una volta per tutte, portatemi in tribunale e la chiariamo una volta per tutte e sarà un processo contro l'intero popolo italiano e conto su di voi che ci portino tutti in tribunale e si stabilisca una volta per tutte se il giudice deve fare il giudice o se il giudice deve fare il ministro, se vuoi fare il ministro molli la toga, ti candidi e vai a fare il ministro, altrimenti non rompi le scatole a chi lavora, questo è il ragionamento perché difendere il mio paese è un mio dovere, non è un mio diritto e sono stufo, è processo, è processo, è processo, mandate cari signori giudici di sinistra a beccare spacciatori e delinquenti e non rompete le scatole alla gente che lavora, è questo il mio desiderio e se mi portano in tribunale vi aspetto anche tutti voi, viva cattolica, viva la Romagna, viva l'Italia e viva la libertà e andiamo a vincere, andiamo a vincere! e il caffè? dove l'è il caffè? qualcuno? e io cosa faccio? mi pare caduto? no, qualcuno vuole fare una foto? attenzione, ormai visto che è una delle ultime robe che non hanno tassato perché io mi aspetto anche la tassa sul selfie nei prossimi giorni però ogni selfie, ogni foto io lo prendo come un impegno da parte vostra mancano sette giorni per svegliare la coscienza di sette romagnoli perché a me piacerebbe domenica prossima non vincere le elezioni stra-vincere le elezioni grazie a tutti, buona domenica, buona vita e buona fortuna a tutti